ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale wrestling gamer eccoci finalmente con ghost runner 2 taglie questo seguito che io attendevo da quando è stato annunciato quindi riprenderemo i panni di jack questo cyber combattente alle prese con diciamo una nuova avventura e nuovi boss nuova ambientazione e anche diciamo una nuova tipologia di combattimento quella sulla moto che come avete visto abbiamo provato anche nella demo appunto ci saranno anche sezioni in moto sembrano molto fighe sempre la solità diciamo cosa cioè quella one shot one kill sia noi che loro che i cattivi sarà sicuramente tosto quindi io farà smadonnate sicuramente come il primo io direi ricominciare subito vediamo un po' come sarà questo nuovo ghost runner 2 e niente iniziamo subito buona visione beh iniziamo we've been given many names ghost runners human-like killing machines guardians monsters an extinct breed that last one while true for most for us naive that kind of strength that will to overcome every obstacle that undying thirst to defy those who enslave us that resentment ironic disobedience it kept us alive hidden rejected forsaken forsaken and now with all the masters gone the time has come to free ourselves at last to remind everyone of what we once were dharma will finally pay the price it deserves and there will be no one left to protect it it's time to wake up ok ehm figo ehm non so se diciamo l'intro mi sa che è quella che c'era anche nella demo quindi vediamo un attimo un po' di caratteristiche di... vediamo un po', forse no, c'è qualcosa in più ah interessante una... rappresaglia una... rappresaglia ok ah beh cominciamo subito mi sembra ehm ehm in position mazza quanto sei quattro mazza quanto sei quattro si vabbè stavo per morire sotto ragazzi è velocissimo ah ah tiè ma tiè ma tiè tiè ma pià pià tiè ma ma di prima. Poco prima di subire un attacco corpo a corpo per eseguire una parata perfetta. Ok, quindi si fa questo. Ma è fighissimo. Premi Shift 26 in aria per attivare potenziamento sensio reato. Che sarebbe questo? Ok, si. Un po' complicato. Aia! Sto balordo. Aia! Eh, ma ci devo prendere un po' la mano. Oh, che taglie! Si, vabbè. Aia! 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 chi è beh raga è troppo figo sto giochetto a me poi mi piace da morire lui quindi guardate come vado a finimare e quindi lo scappo il potenziamento sensoriale i blocchi consumano resistenza resistenza si diceva col tempo ma la ricarica si arresta durante i blocchi in un po' perciò a bloccare gli attacchi imminenti prima che vada la bonsina per te via perciò 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 subito nooo ma che pippa au perché io fa tutto veloce capito? quindi c'è Moro sicuro no ma dove cazzo? oh ha rotto le palle questo ma che cazzo? sì vabbè ma scassato au oh ah ok questa è a scendere ma va quel paese sti burini sì Ah, c'è quello? Sì. Guarda, questo non è il primo roteo, voglio solo aiutare. Sto guardare le cose sceglie. C'è perché il reattore è in cima della città? C'è quello che posso sapere? Mi sembrava come un ingegnista nucleare? Potremmo il plasma non si può riuscire. Potremmo l'architettico vuole mantenere la vicenda di lui. Questa è la vicenda. Doveccan! Che ho vai Allora shift E vuole ecco questo Ok Che ciavo devo fare E corolla Tiè E' namozi A cui livelli hanno delle sfide nascoste Che ti permetteranno Che ti permetteranno più la prova Otterrai ricompensi in base a come le completerai Cerca in termini Ok termini nascosti per iniziare la sfida Che dovrebbe essere Quello là sotto Allora Facciamo bronzo Ah inizia Questo dipende ovviamente da quanto io sia pippa Cosa devo fare Oddio Cosa Chi ahia! che cos'è? la corsa? te su ti sai per... mh, hai saputo che ho sbagliato, si oh eh, boh, questa è la prima volta che lo faccio, quindi dove c'è? ok ah ma dove sta? tutto da cavolo per incominciare c'è il cao buone ahia! che palle! ma sei pippa ragazzi no! cavolo namo, si namo dove? dove? oh, 55 secondi beh, riproviamo, ultima volta ragazzi ecco qua a posto così direi che è fantastico no, niente perché quando lo fai tante volte poi le dita si cominciano a intrezzare oltre gli occhi dai 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 46 ok sarei stato quasi bravo vabbè basta amo capito come funziona dove manda? bene allora questo ho perso per strada raggiungi il reattore dove sta sto reattore si in live cui? ah forse no ah forse ah ah eh oh si vabbè raga ma si è impallato il gioco ok si la c'è qualcosa da via tab carne di ratto grigliata croccante si immagino non capisco dove io debba andare ok ah ok forse di là ma io da qua vengo mi sa ok ah eccolo ma they seem determined ma è eh ma non ma sono ma 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 non ma 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 Ah, che madonna! Ahia! Ok, ok, ok Tiè, ammazzatelo Dove ch'è? Sarò la vai, ok Eh, vabbè però, sì Devi essere proprio preciso al millimetro No, ma qua Baccheremo Oh, così stavo Fantastico Perché della politica Non c'è nessuno che può arrivare a vicino senza tutte le altre faccione che si trattano tutti Questa messa è esattamente per cui bisognava lavorare Se tutte le ragazze e le faccione non sanno spaventare bene Non c'è nessuno che si trattano Ah, ecco l'ho Ok, ecco l'ho Ok, ecco l'ho Nooo Eh, qui la faccenda Dove? Non si capisce niente Non si capisce Eh, questa è complicata Bisogna capire Ok, quello che sparamo dopo Ora Ora, proviamo su questo Ok Ok Ma manca Mi sa soltanto Ah, ok Quelli Ma qua Ok, abbiamo Un po' che parte Ah, ve l'abbiamo all'anno Ah, vedi vedi C'è stato questo C'è stato questo Ok ok ospiti indesiderati a 14 minuti 21 morti 14 patate a te 5 mazza 1 di 5 manufatti che pinta che succede che succede Grazie a tutti. Questo mi sa che è uno cazzuto Maestro Quindi lui è il nostro maestro? Ma che male? Non c'ho visto Un numero? Let me put it down master, will Bushido allow it? Quattro boss Lo dico io May we be free Edio, c'è stata anche niente Aia E questo ma che cazzo non è? Quanto non scrive Nooo Perchè ho fatto questo? Dai cominciamo da qua Quattro boss Disgusti me! Come at me! Take the shot! You're a mess! This is mercy killing! Just try to give me some challenge! Let's go! Come on! Master! It's over. Forgive not this one's weakness or he is not worthy. But through this sacrifice carry forth the vengeance of the Ashura. May we be free! Eccolo! I don't know who he is! He's dead. He's dead. He's dead. Really. Okay. Throw down your weapons and surrender! Heard that one before? In the name of the Interface Council you're under arrest. Let's go! Understood. Now you show up. We're here, ain't we? Connor wants to see you. Sure he does. Ah, mamma mia ragazzi! Che tormento! Jack! Good job out there! Glad you're in one piece! Yeah, thanks! Connor wants to see me! Uh-huh. But please talk to Zoe first. She was worried sick about you. I will. And yeah, this guy you brought in? He says he's got some information. Might be worth checking out. Oh, and drop by later. You've missed your appointment. Sure. See you in a bit. Later! A posto? Bella, zi! Abbiamo finito? Abbiamo finito. Ah, 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 ah. Bene, ragazzi. Abbiamo visto com'è questo seguito di Ghostrunner, Ghostrunner 2. Che dire, fighissimo. È difficile, subito. Abbiamo subito cominciato con morire, evidentemente, 255 volte. Però è figo lui. È fighissimo Jack. Non c'è niente da fare. La voce è spettacolare. Mi piace anche il doppiaggio. E poi la musica è fantastica. Questa che te carica pallettori proprio. Bene, ragazzi. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like. E ricordatevi, soprattutto, di iscrivervi al mio canale Restring Gamer. Ciao e alla prossima.